bentornati parte 12 dunque in questa parte qui vi faccio vedere la primissima accensione livello di rimorosità o silenziosità perché praticamente a case aperto qualcosa un minimo un filino di rumore si sente ma con lo sportello chiuso con il case cool chiuso proprio non si sente anche quando è sotto sforzo il livello di rumore è proprio minimo quasi inaudibile in effetti per questo motivo lo tengo il case di fianco a me sulla scrivania oltre a questo vi faccio vedere il giro che ho fatto nel bios per vedere un po tutte le impostazioni che ci sono l'ho fatto senza tagli ve lo faccio vedere interamente così se mi interessa vedere un po spulciare tra le opzioni del bios le potete vedere tutti quanti ok adesso vi lascio nel filmato e ci vediamo nel prossimo grazie a tutti 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 grazie a tutti